Ciao ragazze, nuovo video in cui vi mostro la mia night routine. Il mio viso è già struccato, ma per togliere eventuali residui rimasti utilizzo l'acqua micellare della L'Oreal. Almeno due volte a settimana cerco di effettuare uno scrub. Inizio prima con il miele, massaggiandolo sulla pelle. Ed in un secondo momento aggiungo lo zucchero, che mi servirà per eliminare le cellule morte. Vi raccomando sempre di effettuare questa operazione con estrema delicatezza. Una volta finito il mio scrub, risciacquo il tutto con acqua freddissima. Una volta che il mio viso sarà asciutto, prendo dell'olio Largan e ne aggiungo 4-5 pusciate su un dischetto di cotone. E procedo con il massaggiarlo sul viso. Verso dell'acqua di rose della Roberts su di un dischetto. Mi raccomando, deve essere super imbevuto. Poi prendo una forbice e taglio a metà il dischetto. E metto le mie estremità imbevute di tonico sotto le borse degli occhi. E attendo per circa 5 minuti. Poi passo al secondo step, ossia rigiro, come vedete nel video, il mio dischetto. Per metterlo a coprire proprio tutto l'occhio. E aspetto altri 5 minuti. Ed ora è il momento di nutrire la pelle. Io uso una crema notte della Venus alla gelatina reale, antirughe e soprattutto molto 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 nutriente. Dopo aver massaggiato per qualche minuto la mia crema viso, procedo con l'idratare le labbra con un burro cacao. Ed ecco qui, con pochi piccoli gesti, la mia night routine è terminata. Buonanotte, ci vediamo al prossimo video! Buonanotte